Il legislatore svolge in maniera esatta il proprio compito allorquando coglie ciò che dalla società in trasformazione emerge come dato saliente. Queste le parole del Presidente della Commissione Giustizia del Senato, D'Ascola, nel corso della conferenza stampa sulla legittima difesa nella sede di Alternativa Popolare. Le cause di giustificazione alle quali la legittima difesa appartiene, meglio di ogni altro segmento del diritto penale, devono cogliere i processi di trasformazione interni della nostra società. Nella nostra società, infatti, è sempre più forte l'idea che il cittadino debba potersi difendere in maniera adeguata da una serie di continue aggressioni, non soltanto alla sua proprietà privata, quindi al bene giuridico del patrimonio, ma soprattutto alla sua stessa vita, alla sua stessa incolumità personale. La legittima difesa, prosegue D'Ascola, deve tener conto nell'opera di bilanciamento tra gli interessi dell'aggredito e gli interessi dell'aggressore. Dobbiamo partire, perciò, da una presa d'atto, ovvero di questo squilibrio che l'ordinamento predispone, quanto ad un esatto rapporto di bilanciamento tra i suddetti interessi. Il Presidente approfondisce l'argomento anche con una serie di esempi nel caso di turbamento psichico. L'eccesso colposo, conclude D'Ascola, può essere previsto soltanto davanti a una colpa grave, qualificazione già abbondantemente entrata nel linguaggio dei penalisti, come dimostrato ad esempio dal disegno di legge Gelli in materia di responsabilità sanitaria basata proprio sulla colpa grave e risolvere tutta una serie di problemi riguardanti la responsabilità del medico. Un incontro dunque prettamente dei contorni giuridici, ma anche extragiuridici, in quanto sottolinea l'importanza del legislatore ad alzare lo sguardo e valutare ciò che l'opinione pubblica chiede, trasformandola in norma di legge.